Mi chiedi perché non ci credo più? Un giorno ricorrevo le stelle, chiamandole per nome, e ogni volta che mi avvicinavo mi scottavo. A quel punto ho ragionato, e ho capito che anche se le avessi raggiunte, sarei rimasto pervaso dalle ingiustizie di aver fallito in passato, con dei sentimenti migliori, delle motivazioni migliori, un'anima migliore. E la luce diventava oscurità per i miei occhi, che ancora adesso cerco di non far penetrare nel cuore, forse è per questo che il sole non si può guardare. In un mondo dove tutto si rigenera, la vita, l'amore, l'odio delle persone, e tutta la vegetazione, io non riesco a rigenerare il mio cuore, e vorrei strappare come un fiore troppo delicato la mia vita dal mondo, e osservarla mentre piano piano spiadisce col male. Perché non è vero che a forza di sentire urla si diventa sordi, e non è vero che si può bruciare un capitolo senza intaccare l'intero libro. Laganto tra le animo ho saputo ferirmi, ma mai cucirmi. Nessun filo è abbastanza forte da tenere testa a un cuore straziato, ed è complicato vivere presente quando l'atmosfera non ti lascia uscire dello spazio di noi stessi, quando si rimane bloccati in un contesto pesante che succhia l'anima sulle viventi, e li rende spesati e doloranti come farfalle che non trovano il loro fiore.